Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi vi parleremo della nuova, lussuosissima casa di Stefano De Martino e di come ha voluto arredarla all'interno. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Recentemente, Stefano De Martino, anche grazie al successo che sta avendo in Rai con Affari Twy, game show in onda tutte le sere in prima serata, ha deciso di cambiare casa. La ristrutturazione della casa è stata curata nei minimi dettagli grazie alla collaborazione tra l'interior designer Vincenzo Sabatino e l'architetto Domenico Jovine. Il salone presenta un elegante mix di stili classici e moderni, con un lussuoso divano viola e dettagli artistici realizzati da Biosofa, per un valore stimato di 10.000 euro. La cucina minimalista e senza porta si caratterizza per mobili grigi con maniglie in metallo, una mensola sospesa per decorazioni e quadri, e alcuni elettrodomestici come tostapane e frullatore di marca Smeg. L'ingresso della cucina ad Arcole conferisce un aspetto arioso e accogliente, arricchito da piante e barattoli, e uno stile decorativo che riflette l'amore di De Martino per la cucina e il buon cibo. La camera da letto ha un letto con testiera alta e avvolgente in velluto blu scuro, ideale per creare un ambiente rilassante e accogliente. Accanto al letto si trovano due lampade a parete e un tappeto beige con bordo nero, che aggiungono un tocco sofisticato e armonioso all'ambiente. Un piccolo tavolino in legno scuro e due sgabelli metallici in cucina contribuiscono a mantenere uno stile funzionale e minimalista. Il pianoforte nero con dettagli dorati è accompagnato da una composizione di libri e decorazioni, aggiungendo un tocco personale e raffinato all'arredamento. Ogni ambiente è stato arredato con cura, evitando di riempire gli spazi con elementi casuali o superflui, ma studiando ogni dettaglio per creare un'atmosfera bilanciata. La casa di De Martino è considerata un'opera d'arte dagli ammiratori, che possono ammirarne le immagini diffuse sul web e condividere il loro entusiasmo nei commenti. E tu cosa ne pensi delle scelte fatte da Stefano De Martino? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.